1, 2, 3 Ora cerca di mantenersi riportata Gli avversari concede un paio di lunghezze Ma è stato dopo 400 metri percorsi in 31,5 In terza posizione si accode invece Morgana Opie Superando Mile of Go Gli altri a seguire tutti in fine indiana Con esterno Gonch Cavalli al completamento della piegata E dei primi 600 di gara Completati in 47,8 Tranquillamente ora Gavoy In una giornata sicuramente non adatta alla velocità Gavoy continua a condurre Maestà lo segue Poi Morgana Opie Mile of Go Posizioni invariate Gonch all'esterno Dopo 800 metri in 1, 3 e 2 Sempre leader Gavoy su Maestà e Morgana Mile of Go invece non ha perso leggermente il contatto Siamo al completamento del chilometro Percorso in 1, 18 e 9 Si affronta così L'ultimo Chilometro Ora siamo a poco più di 800 Dalla conclusione Gavoy continua a condurre liberamente su Maestà E Morgana Opie Ma il love go cede invece già a traguardo lontano Superato da Gonch Trazione in 15,2 davanti alle tribune E continua a far corsa per proprio conto Gavoy a 600 dal palo A sempre due lunghezze abbondanti Su Maestà Poi Morgana Opie Che rimane comunque a contatto Poi c'è Gonch Che si è accodato dopo un Tragitto esterno O perlomeno parte di tragitto esterno Siamo ora Sul finire della retta di fronte Lo scatto di Morgana Opie Che avanza con decisione su Gavoy Sulla curva conclusiva Morgana Opie Prende sotto tiro Gavoy Asposta anche Maestà Intanto Morgana E passate all'ingresso Addirittura in vantaggio Gavoy in calo E ancora in seconda posizione Al suo esterno c'è ora Maestà Retta d'arrivo con Morgana Opie In buon vantaggio All'interno scatta anche Nord-West Ultime battute Con Morgana Opie Che vince facile Andrea Buzitta Raddoppi in giornata Il secondo è ancora per Gavoy Terzo dovrebbe essere lungo la corda Nord-West 1.19.5 sul doppio chilometro Partenza da fermo Il successo per Morgana Opie Andrea Buzitta 4.44 La quota al totalizzatore